Buonasera e bentrovati a Prato 7, pronti per ripercorrere i fatti salienti di questa settimana che si sta concludendo. Cominciamo ovviamente il nostro viaggio dal telegiornale di lunedì quando ci siamo occupati della relazione del procuratore Nicolosi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Allora vediamo che cosa è emerso. Ben otto tentati omicidi e un omicidio consumato nei confronti di una donna. 36 procedimenti aperti per sfruttamento lavorativo, tanti, troppi, infortuni sul lavoro, con tre fascicoli aperti per incidenti mortali, 53 per lesioni colpose, di cui tre gravi. Reati di stalking in aumento, 107 contro i 77 dell'anno precedente, indagati per droga quasi uno al giorno e una statistica record. Sulle 96 sentenze di fallimento giunte all'attenzione della procura, in ben 87 casi si sono ravvisati gli estremi per contestare l'ipotesi di reato di bancarotta semplice o fraudolenta. Sono alcuni dati estrapolati dalla relazione di Giuseppe Nicolosi, procuratore della Repubblica di Prato, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. I dati sono riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e testimoniano la complessità del circondario pratese caratterizzato da varie emergenze criminologiche. Nella sua relazione Nicolosi torna a denunciare le gravi carenze del personale amministrativo della procura ed esprime preoccupazione per lo spauracchio prescrizione che incombe sui reati contravvenzionali derivanti dai controlli nei capannoni. Nell'anno di riferimento sono stati iscritti 582 procedimenti penali per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, di cui 436 a carico di imprese cinesi. Gli imprenditori, nella maggior parte dei casi, il 72,7% tra i cinesi e l'81,5% tra gli italiani, pagano la sanzione, adempiano alle prescrizioni ed estinguono così il reato. Ma negli ultimi mesi, coloro che fanno altre scelte, vanno incontro a prime udienze dibattimentali, fissate anche al giugno 2025, addirittura per delitti colposi con violazioni in materia di sicurezza, fa notare il procuratore, che sollecita una trattazione prioritaria da parte del Tribunale di questi casi per evitare che da parte degli indagati si possa lucrare sulla prescrizione, come accaduto in passato. E sempre nel telegiornale di lunedì ci siamo occupati anche di sanità e di vaccinazione pediatrica, perché a Prato c'è un 8% in meno di somministrazione rispetto alle altre province dell'Asl Toscana Centro, nella fascia 5-11 anni. Aperto nell'ala nord dell'ospedale Santo Stefano, l'ambulatorio protetto per la vaccinazione Covid dei bambini di età 5-11 anni con allergie gravi, asma, anafilassi idiopatiche o da farmaci o da vaccini. L'ambulatorio è attivo da oggi ed è prevista una seduta settimanale ogni lunedì dalle 14 alle 19. I bambini possono accedere all'ambulatorio protetto a seguito di valutazione dello specialista allergologo, a cui possono essere inviate le richieste di consulenza del pediatra di famiglia. La seduta prevede 10 bambini, chiaramente organizzata in maniera tale che ci sia il corretto distanziamento e questa è la casistica che avevamo e ci ha concesso di organizzare la seduta di 10. Chiaramente saremo disponibili a organizzare sedute successive per soddisfare il bisogno della popolazione pediatrica pratese. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, sono 4.350 le somministrazioni effettuate ad oggi, poco più del 25% del totale della popolazione pediatrica vaccinabile. È un numero che io avrei preferito brevemente più alto ormai a più di un mese dall'inizio delle vaccinazioni che si è avuto il 16 di dicembre, che però spero che nel tempo vada ad incrementarsi. Siamo più o meno intorno al 5-8% in meno rispetto a altre zone della Asle Centro. Quindi il messaggio comunque da dare a tutti i genitori è che la vaccinazione per i bambini è sicura e i bambini rispondono in maniera ottimale a dosi molto più basse rispetto a quelli dell'adulto e anche loro a volte vengono ricoverati per sintomi respiratori o altri sintomi diversi e quindi noi in questo momento stiamo viaggiando comunque con 4-5 bambini ricoverati con Covid nei reparti di pediatria. Martedì ci siamo occupati di arte, ritornando a parlare della vicenda delle opere della Galleria degli Alberti perché la liquidazione della Banca Popolare di Vicenza ha messo all'asta le opere della Galleria. La vicenda legata alle opere della Galleria degli Alberti si arricchisce di un altro capitolo. La Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa ha avviato il processo competitivo per la vendita di alcuni beni d'arte detenuti. Tra questi figurano ovviamente anche tutti quelli compresi nella Galleria degli Alberti. Andando nel dettaglio, la collezione pratese è divisa in 4 lotti. Il primo comprende 121 dipinti, una stampa, 16 sculture ed un tappeto. Il lotto 2 prevede la coronazione di spine di Caravaggio. Il terzo è rappresentato dalla crocifissione del Bellini, mentre l'ultima è la Madonna col bambino di Lippi. Nella documentazione di avvio del processo competitivo per la cessione dei beni è specificato che le opere sono soggette a vincolo pertinenziale sul quale resta pendente un terzo appello al Consiglio di Stato presentato dalla liquidazione coatta. Il vincolo apposto dalla soprintendenza lega le opere al Palazzo degli Alberti in cui sono custodite, qualificando l'intero gruppo di opere come collezione, ovvero come un unicum espositivo. Ciò significa che se anche le opere dovessero in futuro appartenere a proprietari diversi, non potranno fisicamente lasciare la sede attuale di Prato fino al permanere del vincolo stesso. Scopo dell'operazione dei commissari liquidatori è cedere i beni per provare a fare cassa. Il valore complessivo della collezione è stimato in circa 60 milioni e il Ministero dei beni e le attività culturali ha una prelazione sull'acquisto delle opere dalla liquidazione. Nei documenti per l'avvio del procedimento è specificato che la cessione è condizionata al mancato esercizio della prelazione da parte delle autorità competenti. I soggetti interessati all'acquisto di uno o più lotti dovranno inviare un'offerta non vincolante entro la mezzanotte del 28 febbraio. Una volta esaminate e valutate le offerte non vincolanti, i commissari liquidatori potranno invitare uno o più offerenti alla fase 2 del processo di vendita. A quel punto gli interessati dovranno formulare offerte irrevocabili e vincolanti d'acquisto. Si tratta di un atto dovuto, i liquidatori devono massimizzare profitti per soddisfare i creditori, che ricordiamo sono da parte lesa, ha commentato l'assessore alla cultura del comune di Prato Simone Mangani. La vendita delle opere della galleria non le slegherà comunque dal territorio, chiunque sia il futuro proprietario. Dal canto nostro come amministrazione avevamo già fatto un passo importante insieme alla soprintendenza, agli amici dei musei al Core Pacu, per assoggettare le opere a vincolo territoriale e legarle così a Prato. La battaglia per far tornare stabilmente la collezione a Prato, lo ricordiamo, è anche grazie alla campagna di informazione del settimanale Toscana Oggi, rilanciata con forza da TV Prato. Nessun commento sulla vicenda da banca intesa, proprietaria di Palazzo degli Alberti. L'istituto di credito ha espresso la volontà di aprire quanto prima la galleria, di fatto già allestita, rendendo accessibili a tutti le opere. E' mercoledì invece ci siamo occupati della mancata proroga della cassa integrazione per Covid, il mondo del commercio non ci sta, una condanna per il settore, ha detto. Profonda delusione e grande preoccupazione da parte di confesercenti e confcommercio per la scelta del governo di non rinnovare la cassa integrazione Covid per le aziende del terziario, scaduta lo scorso 31 dicembre. Le imprese del comparto, in particolare negozi, ristorazione, alberghi e operatori del turismo, sono alle prese con il calo dei consumi, le difficoltà legate alle restrizioni anticontagio e il caro energia che fa lievitare le bollette per migliaia e migliaia di euro. In questa fase le aziende sono dentro ad una morsa, una morsa fatta di mancati ristori e quindi la mancata attivazione della cassa integrazione Covid e insufficiente ristori per la fase di difficoltà che vivono. E poi la stretta del costo dell'energia. Oltre a questo la burocrazia sfissiante di una pandemia che si trova in una fase diversa, in nuova, dove c'è una necessità di prendere in considerazione la proposta dei presidenti delle regioni per snerlire i processi e ripermettere all'economia di ripartire. Anche Confesercenti parla di misure insufficienti da parte del governo. Sono giudicate positive le norme introdotte sul credito d'imposta per gli affitti e sgravio per le rimanenze di magazzino e appena sufficienti i tagli in materia di costi energetici. Sono invece ritenuti negativi da Confesercenti lo stallo su credito e fisco e lo stop agli ammortizzatori sociali. Non abbiamo ad oggi nessuna risposta su quelle che sono le moratorie, i debiti bancari e le scadenze fiscali, quindi viaggiamo ancora a vuoto. La delusione maggiore è stata sul fronte di ammortizzatori sociali, proprio per la mancanza del rinnovo della cassa integrazione relativa al Covid-19. Purtroppo è un periodo difficile, difficile perché le imprese nel commercio del turismo e della ristorazione si trovano di fronte a realtà brutte, a licenziamenti come sta avvenendo in questi giorni in alcuni alberdi, appunto, nella nostra provincia. Quindi chiediamo fortemente alla politica, ai partiti politici di sostenerci. E sempre mercoledì ci siamo occupati di Macrolotto Zero perché nascerà un nuovo consorzio italo-cinese. La cabina di regia sarà unica per risolvere i problemi del quartiere. A promuoverlo il consigliere comunale del PD, Marco Wong. Un consorzio italo-cinese al Macrolotto Zero è il progetto del consigliere comunale del PD, Marco Wong, che sta mettendo assieme residenti, commercianti e professionisti per creare una cabina di regia unica nel quartiere in grado di rappresentare molteplici interessi sia degli italiani che dei cinesi. L'annuncio è stato dato in Commissione Mobilità durante la discussione della petizione contro il riassetto di via Pistoiese, firmata sia da italiani che da cinesi, contraria al marciapiedone ciclopedonale che toglierà parcheggi davanti ai negozi. Wong ha spiegato che nel quartiere ci sono tante realtà, ma che ognuna porta avanti gli interessi di singole comunità o realtà. Il nuovo consorzio, sul modello di successo di via Santa Trinita, avrà invece uno sguardo d'insieme, metterà intorno allo stesso tavolo sia italiani che cinesi, e ha già in ponte la prima iniziativa, un torneo di ping-pong da organizzare al circolo Curiel. Ci sono difficoltà di dialogo fra i cittadini e le istituzioni, ha aggiunto Wong. Questo consorzio vuole andare a riempire questo vuoto di rappresentanza. Tornando alla discussione della petizione, sia i firmatari italiani che quelli cinesi hanno spiegato che con l'apertura del cantiere la situazione traffico e parcheggi in via Pistoiese è già peggiorata. Il rappresentante dei commercianti cinesi ha spiegato che alcune attività orientali hanno già annunciato l'intenzione di trasferire il negozio, mentre Giancarla Uzi, primo firmatario della petizione, ha sottolineato le lunghe file che caratterizzano la strada. Il Comune ha spiegato di avere rivisto il progetto con l'inserimento di sei posti auto in più in via Pistoiese. Inoltre ha ricordato l'apertura breve del nuovo parcheggio di via Ninorota, della realizzazione futura di uno da 70 posti sempre in via Ninorota e il recupero di una settantina di stalli tra via Bonicoli, via Marini e via Chiesa. E giovedì purtroppo ci siamo occupati anche di un tragico incidente che ha causato il decesso dell'ex direttore dell'ospedale Piero Tahiti, a causare il sinistro probabilmente un precedente malore. Con ogni probabilità è stato un malore a provocare l'incidente a seguito del quale è stato constatato il decesso dell'automobilista, un 81enne pratese. Si tratta di Piero Tahiti, medico che per molti anni ha diretto l'ospedale Misericordia e Dolce. Il sinistro è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, in via Niccolotto Maseo, all'incrocio con via Lavarone. Tahiti, alla guida di una Land Rover Discovery, ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere con un'auto in sosta sul lato destro della strada. La vettura si è poi ribaltata su un fianco, terminando la propria corsa sul marciapiede opposto, alcuni metri più avanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'abitacolo, affidandolo alle cure dei sanitari. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, al medico non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo, probabilmente riconducibile al malore che ha provocato l'incidente. La Polizia Municipale ha provveduto ad effettuare i rilievi e ad avvertire i familiari della vittima, che abita poco distante dal luogo del sinistro. Tahiti era molto conosciuto in città, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore del vecchio ospedale di Prato, ha diretto anche il coordinamento tecnico delle attività ospedaliere e l'unità operativa di recupero e rieducazione funzionale. Grande appassionato di arte e cultura, era anche presidente dell'Università del Tempo Libero Eliana Monarca. Giovedì ci siamo occupati anche di una vicenda particolare, spostandoci a Vaiano con il ritorno alla briglia dell'archivio storico della famiglia Forti, imprenditori di origine ebraica, che erano stati costretti a fuggire in America a causa delle leggi razziali. Una famiglia smembrata dalle leggi razziali, un villaggio fabbrica in decadimento dopo la fuga dei padroni, una scatola di ricordi che torna in una frazione di provincia incastonata tra due montagne. Ci sono tutti gli elementi per rendere speciale l'avventuroso ritorno dell'archivio della famiglia Forti alla Briglia nel comune di Vaiano. Le testimonianze più intime di questo gruppo familiare di industriali illuminati di origine ebraica, costretti a fuggire in America a causa delle leggi razziali, è giunto in dono per volontà di Simon Forti alla Fondazione CDSE, il centro di documentazione storico-etnografica con sede proprio a Vaiano. Per formere artista, nipote di quel Giulio Forti che fu proprietario dell'intera comunità nata intorno allo stabilimento Tessile a fine 800, Simon aveva quattro anni quando è dovuta scappare dalla Briglia. Simon è venuta per la prima volta alla Briglia nel 2006 ed è rimasta affascinata dal ruolo della famiglia in questo territorio ma anche quanto fosse ancora permanente il ricordo delle gesta di questa famiglia. Per questo ha deciso poi circa due anni fa di lasciare le sue opere d'arte al museo di Los Angeles ma le carte più private della famiglia e si parla veramente di oggetti estremamente intimi al centro di documentazione storico della Val di Visenza in Montemorlo. Il dono è il frutto di un lavoro di ricerca durato anni e di contatti tra una studiosa del centro, Silvia Sorri, e Simon Forti. Presso il CDSE sono conservate fotografie storiche del villaggio Fabrica della Briglia frutto dell'atteggiamento filantropico dei forti i quali patrocinarono non solo la costruzione di case, chiesa e negozi di prima necessità per gli operai ma anche luoghi di aggregazione e di cultura in primis la Biblioteca Popolare ancora conservata al CDSE. Nel 1921 fu istituita perfino una sezione dell'Università Popolare di Firenze quella che ormai è stata denominata la Scatola dei Ricordi e quindi un'ulteriore restituzione alla comunità brigliese ancora molto legata alla storia di questa famiglia. E venerdì invece cronaca in primo piano con l'arresto di un 19enne per estorsione sognava il mondo dello spettacolo e aveva ricattato l'agente di moda. Deluso per non aver ottenuto alcun ingaggio nel mondo dello spettacolo se l'è presa con il titolare dell'agenzia di moda tempestandolo di telefonata nei giorni successivi al provino e minacciando di diffamarlo nel settore. L'aspirante modello, un 19enne di Arezzo ha detto al libero professionista che avrebbe divulgato alcuni file audio che asseriva di aver registrato clandestinamente nel corso del casting e che avrebbero provato, a suo dire, dei comportamenti scorretti. A quel punto l'imprenditore si è rivolto alla polizia ma le telefonate assillanti dell'aspirante modello sono proseguite anche nel corso della formalizzazione della denuncia. Gli agenti, intercettando la telefonata, ne hanno approfittato per spingere il titolare della ditta a dare appuntamento al ragazzo nel proprio ufficio e ad accettare il pagamento richiesto, 1500 euro in contanti. Ad attenderlo nel luogo dell'incontro, tuttavia, non c'era soltanto la vittima dell'estorsione ma anche gli investigatori che hanno avuto modo di osservare lo scambio di denaro attraverso le telecamere all'interno dello studio e di fermare il giovane in flagranza di reato. L'attività della squadra mobile si è così conclusa nel giro di poche ore e ha evitato altre richieste di denaro o condotte che potevano sconfinare nello stalking. Il 19enne Aretino è stato posto agli arresti domiciliari per estorsione in attesa del giudizio per direttissima che si è svolto stamani. L'arresto è stato convalidato ma vista l'incensuratezza del giovane e il suo comportamento in udienza il giudice non ha ritenuto di dover applicare misure cautelari nei suoi confronti. Ancora cronaca in primo piano venerdì con l'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di quattro rider che erano attivi in centro storico spacciavano usando bici e monopattini. Quattro rider dello spaccio attivi nel centro storico sono stati arrestati in pochi giorni dai carabinieri di Prato. In manette sono finiti due cittadini pakistani irregolari in Italia, un marocchino ed un algerino di età compresa tra i 28 e 39 anni sorpresi a spacciare o in possesso di droga. Nel complesso i militari hanno sequestrato circa 220 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina ed ecstasy oltre a denaro contante per quasi 2.000 euro ritenuto provento dell'attività illecita. Gli spacciatori, tre dei quali residenti in centro ed uno a Vergaio, erano attivi in varie piazze entro le mura, piazza San Domenico, la zona del Serraglio, i dintorni di piazza Duomo e piazza San Francesco. I pusher si muovevano in bicicletta o in monopattino per giungere più rapidamente e inosservati nei luoghi concordati con i clienti per la consegna della droga. Questi rider dello spaccio come sono stati definiti effettivamente girano in bici o in monopattino sui spostarsi in maniera estremamente celere alle richieste dei vari acquirenti e portare la sostanza stupefacente lì dove gli viene richiesta. Però sostanzialmente nel centro storico è il luogo di spaccio prevalente. in questo caso l'abbiamo accertato con questi quattro arresti. L'Ascish era talora nascosto dentro ai guantoni da motociclisti generalmente utilizzati per riscaldare le mani e gli avambracci. L'operazione, che ha visto l'intervento dei carabinieri di Prato, della stazione di Iolo, del battaglione Cio Toscana e i cinofeli di Firenze, ha inteso rispondere alle diverse segnalazioni che giungono dalla cittadinanza e contrastare un fenomeno, quello dello spaccio, fuoriero di altre tipologie di reati. Lo spaccio non è fine a se stesso, ovviamente non fa male solo a chi fa uso di sostanze stupefacenti, ma crea problemi anche perché per provvigionarsi del ganaro necessario all'acquisto della sostanza stupefacente, queste persone tossicodipendenti non evitano di commettere altri tipi di reati contro la persona, contro la proprietà, sulle auto in sosta. per cui qualunque forma, qualunque reato gli possa creare e dare un beneficio economico non hanno difficoltà a farlo pur di arrivare al loro scopo che è quello dell'acquisto della sostanza stupefacente. E ieri invece nel telegiornale di sabato ci siamo occupati di un tema attuale, quello del caro energia con l'allarme lanciato da Confindustria per le imprese e da Confconsumatori invece per i rincari previsti per le famiglie. Le imprese chiudono interi reparti perché produrre non conviene più i costi superano i ricavi. Questa è già una realtà nel distretto a causa del caro energia secondo quanto riferito dal presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini. Il consorzio gas Toscana Nord ha calcolato che per il gas metano dopo il prezzo di 1,20 euro al metro cubo di dicembre le aziende energivore vanno verso una media nei primi sette mesi del 2022 superiori a 90 centesimi al metro cubo basti pensare che fino a settembre 2021 le imprese hanno pagato il gas 20 centesimi al metro cubo pesanti gli aggravi anche per l'energia elettrica il 2021 ha visto costi di 125 euro al megawattora per il 2022 la previsione di 214 euro al megawattora Il problema dell'aumento dei costi dell'energia del gas è un problema molto sentito dall'azienda del nostro territorio l'80 per cento delle aziende del settore fessi di abbigliamento del nostro distretto sono classificate come aziende energivore sono 1600 aziende con ben 12.500 addetti questo per dare un po' le dimensioni dell'impatto sulle nostre aziende come Confindustria chiediamo con forza al governo di intervenire velocemente non hanno vita facile nemmeno le famiglie senza contare che se le aziende spendono di più l'aumento si riversa anche sul prezzo finale all'utente di beni anche di prima necessità secondo l'analisi di Facile.it il gruppo che svolge attività di comparazione di prodotti assicurativi e tariffe per i cittadini il rincaro annuo della bolletta elettrica è stato pari al 31% e quello del gas del 22% rispetto al 2020 la strategia per risparmiare secondo le associazioni che tutelano i consumatori rimane quella di valutare le migliori tariffe nel mercato libero noi come Conf consumatori di Prato metteremo a disposizione un consulente energetico dove studiando la situazione della bolletta che gli è stata presentata vedrà quali sono le azioni che possono essere fatte per aiutare la persona sicuramente quella di cercare sul mercato quelle che sono le più convenienti questo era l'ultimo servizio Prato 7 termina qui torna ovviamente domenica prossima alle 20.30 su TV Prato grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti